Vesuvio Live.it Vesuvio.it Vesuvio.it Sono salito al castello molto alto lì. Non mi ricordo come si chiama. Castello Santino. Sì, questo, esattamente. Hai preso la funicolare? No, sono andato a piedi. A piedi? Tanto stancante. È molto stancante, ma io mi dico che... Eh, l'ho cura. L'ho cura. L'ho cura. L'ho cura di avere un contatto molto breve. Vai lì bene? Ehi, ciao, come ti chiami? Da dove sei? Ciao, Laura. E questo è molto, molto... Se la traduci? Eh, io ce la. Eh, ma se no... Ciao a tutta la gente italiana. Siete un paese fantastico. Sono qui ogni anno, allora mi piace molto essere qui. Ogni anno sono imparando un po' l'italiano. Saluti agli amici di Suvie.live. Siamo eina, посмотреть... Se no... E direttamente... Non è che, non è che! È momento molto buono. Se no... Allora... Esatto. Il mio nome è più difficile. È tutto il proprio tipo... È tutto l'intubblico. È l'intubblico? È tutto l'intubblico. È tutto lì, resti. È tutto lì, no! È tutto lì. È tutto lì. Grazie a tutti.